buongiorno a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome Rossella Pani eh oggi è il giorno dell'arcangelo Michele di tutti gli angeli della coscienza micaelica ehm e quindi oggi faremo una lettura speciale per questa giornata del 29 settembre ma eh la lettura comunque è valida per una settimana è un portale quello del 29 settembre molto molto importante per tutte le anime in ascensione per tutte le anime che stanno transitando dalla terza alla quinta dimensione per tutte le anime che vogliono manifestare un nuovo paradigma di amore ossia la nuova terra una terra eh di amore dove eh non esiste la guerra non esiste la competizione non esiste il dolore e la sofferenza ma una terra dove esiste la fratellanza la sorellanza la gioia infinita la salute perfetta l'abbondanza comune per tutti anime infinite il lavoro da fare è uscire dall'ego qui su eh vedrete un video ok lo allegherò è un video come transitare dalla terza alla quinta dimensione gli insegnamenti dell'arcangelo Michele sono sempre attuali e sempre molto molto validi ok adesso inizieremo a fare una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze dell'arcangelo Michele quindi eh faremo una preghiera metterò le carte vicine al mio cuore e faremo una preghiera per connetterci con le frequenze dell'amore più elevate in assoluto invoco la divina presenza di Dio Dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore eh mi stanno seguendo invoco te arcangelo Michele maestro Gesù Maria Regina Celeste Maria Maddalena e l'intera coscienza micaelica e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole d'azioni di tagliare tutte le corde egoiche di paura di giudizio di competizione di elevare le nostre vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato arcangelo Michele ti chiedo di aiutarci a radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione impenetrabili all'oscurità dove possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di Dio Dea onnipotente padre e madre chiedo massima protezione fisica psichica in tutti i livelli per me e per tutte le persone che si stanno collegando attraverso diciamo l'ascolto di questa lettura angelica è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre per l'eternità ok quindi non sarà una lettura suddivisa in gruppi ma sarà una lettura generica per tutte le anime in ascensione per tutte le anime che hanno scelto la via maestra dell'amore iniziamo col con la prima carta sono abituata a dire il gruppo e invece la prima carta è fidati dei tuoi sentimenti e rispettali sono sempre tre mazzi di carte prenderò tre carte da ogni mazzo insomma un po come le vecchie letture che facevo in passato ok esplora le tue possibilità dice l'arcangelo michele innocenza molto interessante questa lettura allora diciamo che questi sono i messaggi di michele ora vediamo i messaggi di michele attraverso le carte delle degli esseri della natura che contribuiscono alla manifestazione della nuova terra problema risolto la prima carta vediamo la seconda carta cosa ci dice abbiamo i sogni diventano realtà nell'energia presente e poi vediamo terza carta abbiamo guarda dentro di te ora vediamo un po lo scopo nella vita arcangelo michele per il massimo numero delle persone possibili per tutte le persone che stanno ascoltando un messaggio di che può essere esteso a tutti animali la seconda carta sono capitate due carte uno è nutrizione l'altro è speaker anime infinite questi sono messaggi molto importanti perché perché la nuova terra si può manifestare solo attraverso un paradigma di amore e poi lo vedremo nello specifico terza carta artista ora vediamo un po' una carina una lettura molto varia iniziamo col con l'ascolto con l'ascolto di noi stessi l'ascolto delle nostre emozioni l'ascolto delle nostre sensazioni che ci guidano che ci aiutano a comprendere cosa è giusto cosa è sbagliato che ci aiutano a usare dobbiamo imparare ad usare il discernimento ad usare a rispettare i nostri sentimenti rispettarli perché sono sensazioni profonde che rappresentano la guida dell'anima l'anima ci vuole dire qualcosa ci vuole dire che forse è venuto il momento di chiudere una relazione forse è venuto il momento di fare apportare cambiamenti positivi nella tua vita forse è venuto il momento di seguire quel sentire che ti sta spingendo in una determinata direzione ok o che ti sta allontanando da delle situazioni quindi ascoltati perché il tuo sentire dice la verità ci sono diverse possibilità davanti a te esplorale esplorale e cerca di non prendere decisioni affrettate o azzardate ma ascoltare te stessa su quella che la direzione più giusta vuol dire che ci sono più opzioni per te ci sono infinite possibilità nell'universo quindi assolutamente fai la cosa che ti ti dà gioia prendi la decisione che riguarda la tua gioia ricordati che il tuo scopo nella vita che vedere anche col fatto che segui l'anima che sei felice che vibri nella gioia che lasci andare dolore sofferenza rancore e paura ok assolutamente sei un'anima innocente o la persona per cui è posto la domanda è un'anima innocente quindi tanta preghiera tanto perdono tanto rispetto di te stesso di te stessa e anche per questa persona questa persona può aver sbagliato può aver può essere stata un po' impulsiva o tu sei stato tu impulsivo o impulsiva perdonati e perdona perché quest'anima quest'anima che può essere tu o un'altra persona assolutamente sei sei ed è un'anima pura un'anima d'amore di luce ok quindi abbi fiducia nel tuo sentire che sei guidata nella situazione giusta ok assolutamente se eri un po' preoccupato o preoccupata per una situazione il problema è già risolto a livello diciamo spirituale nel sul piano diciamo astrale eterico per così dire il problema è già risolto ora si deve manifestare sul piano della materia lascia andare questi pensieri positivi ti viene il mal di testa lascia andare lontana tutto ciò che ho posto all'amore cerca di avere pensieri ed emozioni positive e aspettative positive felici perché queste ti aiuteranno a manifestare assolutamente i tuoi sogni i tuoi sogni diventano realtà quindi assolutamente credi in te stesso credi in te stessa perché la magia della creazione dentro di te tu hai il potere di creare la realtà dei tuoi sogni diciamo che ora che stai ascendendo che ti stai elevando che ti stai innalzando sei più potente hai il potere di creare hai il potere di manifestare lo fai sia nelle basse frequenze manifestando eventi situazioni persone circostanze relative sia nella gioia nell'amore nell'abbondanza ma dove ma scegli tu e il tuo libero arbitro ti prego ascolta l'anima che ti sta guidando a fare il cammino spirituale il cammino del lavoro di te su te stesso e su te stessa questo ti aiuterà ad elevarti ad innalzarti va bene guarda dentro di te di nuovo un invito all'interiorità all'ascolto medita medita prega ascolta in silenzio il tuo cuore cosa da dirti va bene sto cercando di ok guarda dentro di te perché assolutamente le risposte sono all'interno non ascoltare gli altri anche se si tratta dei tuoi cari i tuoi cari non possono capire la tua situazione i tuoi cari non possono capire i tuoi obiettivi i tuoi progetti magari hanno delle loro incertezze delle loro paure non permettere a niente a nessuno di trasmetterti queste paure perché potresti passare mesi ed anni ad ascoltare loro non ascoltando te stesso invece devi fidarti dei tuoi sentimenti rispettarli andare nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi perché i tuoi sogni obiettivi diventeranno realtà sei in grado di manifestare i tuoi sogni fiducia fiducia in dio negli angeli nell'arcangelo michele ok bene parliamo di scopo nella vita assolutamente questo riguarda l'intera collettività gli animali stanno chiedendo aiuto a livello globale c'è un urlo chi è in grado di sentire la coscienza collettiva chi è in grado di sentire la terra il richiamo della terra e degli animali che stanno chiedendo aiuto agli operatori di luce perché stanno soffrendo molti animali muoiono tutti i giorni muoiono tutti i giorni perché devono soddisfare una 3d consumistica passatemi il termine e molti operatori di luce si stanno risvegliando si stanno innalzando e stanno lasciando andare come come cibo come nutrizione gli animali e stanno andando in difesa degli animali ebbene se ti senti chiamato chiamata in questa direzione fallo fallo perché c'è bisogno di te la terra ha bisogno di aiuto ha bisogno di messaggeri di luce ha bisogno che ci siano dei altri qualcuno che fa qualcosa per aiutare salvare gli animali e potresti pentirti un bel giorno di non aver contribuito al cambiamento del piano del piano del cambiamento vibrazionale che la terra sta vivendo al cambiamento e al passaggio nella nuova terra ricordiamoci a infinite che non c'è nessun giudizio per coloro che ancora sono onnivori però è normale che dovete dovete prendere consapevolezza che nella nuova terra gli animali non si toccano non c'è nemmeno bisogno non ci saranno divietti perché ci si ascenderà per coscienza ci si arriva ci si arriva spontaneamente va bene è un è un passaggio che avviene quando si sceglie la via maestra dell'amore nei livelli più elevati non è un amore 3d è un amore 5d è molto diverso ok è un amore incondizionato quindi c'è bisogno di persone che hanno il coraggio di parlare e tu anima infinita sei un comunicatore tu sei una comunicatrice scrivi fai un canale youtube scrivi sui social fai dei video su tiktok non so fai la cosa giusta per parlare dire la tua perché dentro di te c'è il maestro dentro di te c'è la maestra che sta urlando che vuole uscire fuori e vuole contribuire al passaggio nella quinta dimensione al passaggio nella nuova terra oggi è un giorno grandissimo c'è la luna piena è il giorno dell'arcangelo michele è un portale potentissimo per la manifestazione dei tuoi sogni e se il tuo sogno come il mio è quello di manifestare la 5d nella nuova terra allora chiedi all'arcangelo michele di darti il coraggio la determinazione di fare questo salto di fare questo passaggio è molto importante ancora dicono gli angeli cambiare la tua alimentazione la tua nutrizione fare un'alimentazione di tipo vegan fare un'alimentazione tipo vegetale ti aiuterà ad elevare e innalzare le tue frequenze ok fa parte dello scopo divino della tua anima ok tu puoi guarire te stesso tu puoi guarire te stessa cambiando l'alimentazione naturalmente lo parlo per l'esperienza personale non basta essere vegani è importante anche fare un'alimentazione sana perché anche nel veganismo ci sono tanti additivi tante sostanze eh che possono inquinare diciamo il tuo il tuo organismo quindi eh bisogna mangiare cibi sani eh magari mh ripuliti dal dagli additivi dalle sostanze chimiche che vengono spruzzate nella frutta e nelle verdure possibilmente biologici o comunque cibo che viene comprato nel dall'ortolano di fiducia insomma ci vuole una grande attenzione a quello che noi mettiamo dentro il nostro organismo eh perché questo ci consentirà di vibrare più velocemente di innalzare le frequenze di ascendere più velocemente e poi per te anima infinita anche tu hai uno scopo importante mi rivolgo a te te che sei un artista tu che sei una cantante o un cantante uno scrittore un pittore una pittrice o addirittura sei molto brava nei social sei molto brava a creare dei video anche quella è arte l'arte può essere espressa attraverso la tua creatività i tuoi talenti nel modo più 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 variegato più diverso tu puoi essere artista anche nel make up nell'estetica quando questi lavori vengono fatti con amore con integrità e saggezza tutti i mestieri tutti tutta l'arte può essere espressa attraverso l'amore perché abbiamo ma vi faccio un esempio ma guardate i cantanti non fanno altro che parlare di disgrazie non dico tutti per carità di cose negative di come il mondo è marcio di come il mondo è cattivo ecco iniziamo a fare canzoni 5d iniziamo a parlare di nuova terra nei nostri testi ma veramente un appello ai cantanti più famosi dell'italia magari mi segui ci sarà qualcuno che mi seguirà voglio dire io adoro i mareschi non so se vi piacciono ma fatemi una canzone che parla dell'arcangelo michele della nuova terra io non lo so a tutti gli artisti anche tu che sei emergente puoi parlare del cambiamento che sta avvenendo nel risveglio spirituale o tu che scrivi poesie o tu che dipingi o tu che 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 balli trasmetti la gioia abbiamo bisogno di figure positive perché il mondo 3d si sta sgretolando e apparentemente e siccome il sistema sta crollando sembra tutto negativo ma noi per vibrare ed innalzarci dobbiamo staccarci da tutto questo non vuol dire fregarsene vuol dire intervenire laddove sei tenuto ad intervenire quindi attraverso le tue parole i tuoi messaggi attraverso l'aiuto agli animali alla natura all'ambiente ci sta ma non immergerti nella negatività non toccare il fondo perché toccando il fondo non riuscirai a salire nella frequenza quindi cerca di creare un mondo di amore e laddove la 3d cerca di ostacolarti prega ragazzi io vi dico con amore che questo mondo cerca di frenare gli operatori della luce ma gli operatori della luce che pregano che fanno il processo di liberazione con l'arcangelo michele sono liberi da questi ganci energetici che ti spingono indietro e ti trattengono nel passato io non sto scherzando fare tutte le preghiere tutti i giorni preghiera di protezione preghiera di protezione della casa e degli ambienti processo di liberazione radicamento e pulizia dei chakra so che impegnativo so che ci vuole un'ora e mezza due ore al giorno ma meglio due ore investite nell'amore in più ci vorrebbero anche le affermazioni positive un lavoro spirituale è un lavoro che ci consente di riprogrammarci nell'inconscio è un lavoro che ci consente di vibrare nelle alte frequenze se non siamo vittime del sistema le onde elettromagnetiche sono sempre più potenti e ci condizionano perché vengono irradiate anche forme pensiero e quindi ragazzi non sono io qui a darvi le notizie perché sul web è pieno di queste informazioni o quello che sto cercando di dirvi per uscire dalla matrix parlo di quella matrice che ti tiene intrappolato nella 3d è necessaria la preghiera è necessario il lavoro spirituale le affermazioni positive e azione nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi io vorrei parlarvi prima di salutarvi di una cosa visto che oggi è la giornata dell'arcangelo michele è giusto che anche io dia una parola di supporto di amore per questo per queste persone c'è un rifugio eh mi chiedo scusa non ricordo il nome del rifugio comunque dove venivano tenuti questi porcellini sani e salvi al sicuro un luogo sacro per loro erano stati risparmiati dal macello e vivevano felici e contenti proprio come vivono i nostri cagnolini ecco c'è il mio cagnolino che adesso sta chiamando attenzione poi andrò a prenderlo e comunque questi animali vivevano liberi e felici e la peste suina ha fatto sì che questo rifugio diciamo non è stata rispettata la vita e questi animali sono stati uccisi anche quelli sani per evitare la diffusione del di questa peste però in realtà quell'oro erano a casa loro non erano in un allevamento destinato al diciamo al macello e così via era è come che da casa vostra viene qualcuno e vi uccide il vostro cagnolino quindi non è per abbassare le frequenze a nessuno è solo per parlare di questa cosa questi ragazzi che hanno manifestato in maniera pacifica hanno cercato di fermare l'esecuzione su questi animali sono stati veramente picchiati quindi voglio dire c'è gente che sta cercando di creare il paradiso in terra e la 3d e la 3d cerca di fermare la nascita della nuova terra quindi io vi chiedo di pregare in comunione di intenti quando capitano queste cose di pregare per la liberazione anche di queste persone che stanno cercando di fare la differenza come me e come voi ok il mio cagnolino battistino è un po' monellino ve lo presento è un po' anzianotto però è un cagnolino molto vivace molto monellino e stava bagnando perché stava attirando voleva attirare la mia attenzione giustamente ha bisogno delle mie attenzioni quindi adesso andrò a coccolarlo va bene ripeto ci vuole preghiera protezione per noi per la terra per gli operatori della luce per chi sta cercando di fare la differenza su questo pianeta vi posso garantire che la preghiera cambia le condizioni cambia il futuro cambia il presente cambia la tua energia cambiando la tua energia tu puoi realmente cambiare la tua realtà e io con questi messaggi di amore vi saluto e spero veramente vivamente che continuate chi sta facendo le preghiere di protezione di liberazione di radicamento e così via continuate a farle perché fanno la differenza tutte le mie allieve studentesse dei corsi le fanno la loro vita sta cambiando in meglio si stanno allontanando da situazioni spiacevoli stanno arrivando nuovi lavori stanno arrivando nuove prospettive si sentono più centrate più lucide più nel loro potere non sentono più le energie negative voglio dire questo qua questo lavoro fa la differenza l'arcangelo michele fa la differenza nella vita delle persone come lo sta facendo con me l'ha fatto con me e lo farà anche nella vostra vita le preghiere le trovate adesso alla fine del video le metterò nella schermata basta andare anche sul mio canale youtube playlist preghiere le trovate tutte lì preghiera di protezione psichica giornaliera protezione della casa degli ambienti processo di liberazione quello con maria maddalena è molto più potente con gesù e con maria e poi quella di radicamento sceglietene una perché sono tutte potentissime io vi saluto vi abbraccio e ci sentiamo la settimana prossima buono scopo nella vita ciao